Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video e come promesso nel video prima di questo torniamo a parlare di un filmaccio dopo il peggior film della storia del cinema secondo il mio parere che era Frogs, ne tiro fuori un altro che non posso più dire che è il peggior film della storia del cinema perché ho già messo Frogs a quel diciamo quel podio da primo posto, però posso dire che questo qui è il film più stronzo della storia del cinema, parlo di Detective Stone, film del 1992 con Ruth Gerhauer allora io ancora non capisco come ha fatto uno come Ruth Gerhauer, grandissimo attore Falchi della notte, La leggenda del santo brevitore, ha fatto un sacco di filmoni avete visto anche in Sin City per dire no? io non capisco, la furia cieca, tutti questi film qua, non capisco come abbia fatto ad accettare una sceneggiatura del genere perché dico che questo qui è il film più stronzo della storia del cinema perché è figo, il film è figo, è figo fino a cinque minuti dalla fine, gli ultimi cinque minuti riescono a rovinare l'intero film e io mi ricordo quando sono andato a vederlo nel 1992, sono andato al cinema tutto ai pato perché avevo visto i trailer e dal trailer sembrava fighissimo ma perché effettivamente il film è fighissimo per ripeto per non so non mi ricordo quanto dura 90 minuti per 85 minuti figo e gli ultimi cinque minuti va a rovinare completamente tutto allora il film parla di un detective appunto questo stone che fa il cognome interpretato da Rutger Hauer che praticamente sta per lo meno inizia ad investigare su degli omicidi molto molto particolari perché le vittime erano addosso dei segni che praticamente sono segni non di un omicidio convenzionale cioè sono completamente sventrati alcune mangiate all'interno cioè sembra proprio che sia un grosso mostro ad attaccarle no e per tutto il tempo cioè per tutto il film mentre c'è questo detective che sta indagando su queste morti si vede questo mostro in soggettiva cioè praticamente si vede lui che guarda che scruta praticamente sempre la scena e segue praticamente questo detective con un non si sente mai chiaramente parlare ma si sente solo ansimare con un bruttissimo verso no e quindi si caspita chissà che mostro che è di qua di là e poi si viene a scoprire che è probabilmente qualcuno che abita nelle fogne e quindi vai a pensare a una persona magari geneticamente mutata o un uomo top un humorato una roba del genere no e comunque un qualcosa un qualcuno più che un qualcosa che vivendo nelle fogne è diventato diciamo cannibale e queste cose qui no probabilmente sia anche geneticamente mutata perché poi ha proprio questo ansimare e tutte le volte che ve lo fa vedere in soggettiva vi prende male perché vorreste vederlo ma non ve lo fa vedere per tutto il film tranne che negli ultimi cinque minuti e negli ultimi cinque minuti quando sto detective va giù nelle fogne praticamente a prenderlo mamma mia mamma mia cosa viene fuori alien senza la testa lunga ti dici chi cazzo è da dove cazzo viene fuori questa cosa non è lo faccio vedere ci vedete che cos'è questo che cos'è perché esiste questa cosa non vi spiegano nemmeno da dove viene cioè secondo l'ideologia del film dovrebbe essere un uomo geneticamente ma non ve lo dicono nemmeno c'è questo mostro sotto nel sotto nelle fogne che questo cosa qui perché cos'è da dove viene fuori che poi dici fa magari non so fai un finale un megafinale contro sto mostrone così anche difficile tirarlo giù no cioè praticamente sto mostrone qui lo prende per il collo lui infila un gli infila la mano praticamente nel petto gli tira fuori il cuo al fine cioè io quando ho visto sto film sono rimasto così cioè mi sono sentito preso per il culo per 85 minuti non so quanti quanti erano però per i fine cinque minuti prima cioè nel del film che era durato c'è in cui gli ultimi cinque minuti di film perché alla fine sto mostro compare solo per gli ultimi cinque minuti che lo vedete mi sono sentito preso per il culo vedete cioè io sono rimasto impato per tutto il film perché comunque a livello c'è di incedere no per lo meno per gli anni 80 perché poi c'è anche la questione voi dovete capire anche una cosa che non sono giovanissimo anche se li porto bene non so me lo dico da solo però è vero quindi non sono giovanissimo dovete capire che negli anni 80 si mandava giù roba soprattutto noi giovani noventenni di quell'epoca si mandava giù roba che oggi il pubblico odierno soprattutto maturo guarda dice ma che cagata cioè roba tipo commando rambo 2 la vendetta ma anche rambo 3 per dire no ci lo riguarda di riguardo oggi con occhio critico e sono minchiate sono minchiate ma all'epoca noi eravamo fomentati da questo genere di film rocky 4 eravamo fomentati da questo genere di film li accettavamo quindi magari oggi uno di voi guarda detective stone e magari lo giudica una merdata dall'inizio ma perché semplicemente perché cloni cioè cose così se ne sono ormai già viste a bizzeffe capite però all'epoca erano film che ti fomentavano no perché erano è stato proprio sono stati proprio gli anni quel decennio 80 90 che c'è dagli anni 80 agli anni 90 all'inizio di 90 che è stato proprio il periodo dei film action anche dei cloni di rambo c'erano i vari cloni con con chuck norris da cui poi sono nate diciamo le leggende su chuck norris perché faceva questi film che erano questi cloni di rambo dove praticamente da insomma matava tutti no cloni più che altro di rambo 2 non di rambo 1 perché è rambo 2 che ha cominciato con sta con sta storia dell'uomo solo che aveva voluto il vietnam no capite quindi all'epoca noi accettavamo questi tipi di film e quindi all'epoca per me quel film è stata una figata fino agli ultimi 5 minuti finali quindi per me questo film è il più stronzo della storia del cinema perché vi prende proprio per il culo tra l'altro il registro di questo film di cui adesso mi spiege il nome non ha fatto nient'altro cioè ha fatto due o tre cose che se provate a cercarle su wikipedia sono anche in rosso cioè non hanno nemmeno le pagine quella roba che ha fatto e praticamente ha fatto sto film che ha rovinato la carriera di ruth gerauer fino a sin city praticamente poi ha fatto una boiata di baffi l'ammazza vampiri ha fatto una boiata dietro l'altra e parliamo di un grande attore che io mi chiedo come cavolo ha fatto a firmare quella sceneggiatura cioè va bene che uno dice ma magari sei un grande attore però magari è un po' che non lavora ha bisogno un pochettino di soldi perché uno dice ma se uno è ricco perché ha bisogno di soldi perché comunque ha un tenore di vita alto cioè anche voi vi sentireste poveri se doveste vendervi il televisore in casa anche se non vi serve per mangiare il televisore però se uno dice se devo arrivare a vendere il televisore perché effettivamente comincia ad essere veramente povero dovete calcolare che i super ricchi se gli togliete quello che hanno si sentono impoveriti è una questione di ideale non è una questione reale perché ripeto anche a voi il televisore fondamentalmente non vi serve per mangiare quindi potreste comunque sopravvivere tranquillamente senza però è proprio un simbolo cioè se perdete il televisore perdete la vostra non vostra essere benestanti però vi sentite più poveri perché comunque è la cosa che hanno in casa tutti capite e quando i ricchi tutti hanno uno yacht per dire se perdete lo yacht non vi sentite più ricchi quindi insomma uno dice va bene magari ha dovuto accettare questa sceneggiatura perché doveva mantenere un pochino il suo tenore di vita no? però no perché comunque veniva invece da film di successo comunque Rutger Hauer era un grande attore all'epoca quando ha firmato questa cavolo di sceneggiatura posso capire quando ha firmato quella di Sin City Sin City è un gran film per carità però dico era un po' che stava facendo cagate ormai non era più sulla crescita dell'onda come attore quindi tu vai a firmare una sceneggiatura che è nuova perché comunque Sin City all'epoca è stata una grossa scommessa girare un film in quella maniera non era un sicuro successo capite e quindi dico non capisco perché in quel momento cioè potrei capire se la firmasse oggi ma non capisco perché all'epoca abbia dovuto firmare questa sceneggiatura perché io dico l'avrai letto alla fine che questo mostro era una merda o come lo facevi fuori che lo fai fuori in 30 secondi tirandogli fuori il cuore che poi questo mostro qui è fortissimo dilania tutto e tutti e arriva quello lì e gli tira fuori il cuore con la mano no? cioè capite non... poi ok si lui è un personaggio un po' sopra le righe super cazzuto non so se avete presente un po' lì sotto le elementari con Arnold Schwarzenegger c'è un pezzatino iniziale prima che lui diventi maestro di scuola dove praticamente è un detective molto cazzuto no? barba incolta con gli occhiali con il canno in mozzo addirittura nascosto nell'impermeabile ecco diciamo un personaggio così Rutger Hauer in questo film è un personaggio così quindi il personaggio sopra le righe classico anni 80 sborone figo per noi ripeto per l'epoca che va a rovinarsi poi in questa cosa qui il finale quindi vabbè se volete vedere il film magari ripetetevelo da qualche parte non sono sicuro che ci sia su internet non lo so in dvd così non neanche più mai visto quindi talmente brutto che mi sa che non l'hanno neanche fatto in dvd questo non credo in realtà l'hanno fatto però io non lo vedo più in giro però magari non so se riesco a mettere il trailer perché poi ormai youtube dal di content anche per qualsiasi cagata adesso anche solo per le immagini statiche quindi non so prova a vedere poi se nel montaggio se nel caricare il video riesco a mettervelo non vi prometto nulla e magari vi metto qualche foto qualche immagine e niente per questo video da tutto quindi adesso avete nel vostro database avete il film il peggior film della storia del cinema e anche film più stronzo della storia del cinema avete visto che bravo che sono vi do tutto praticamente no quindi niente per questo video era tutto e ci sentiamo al prossimo come sempre iscrivetevi alla mia pagina facebook ve la metto in il link qui sotto e ciao alla prossima